Fratelli, noi siamo qui ogni giorno, ci svegliamo, possiamo entrare nella vita perché Gesù Cristo è venuto a mettersi d'accordo con noi, abbiamo ascoltato, padre perdonali, perdonalo, perdonala, così noi ci svegliamo, con questo padre perdonala, perdonalo perché non sa quello che fa, che non sa quello che ha fatto, noi siamo frutto del perdono del nostro Signore Gesù Cristo, noi siamo frutto del suo sangue sugli stipidi della nostra casa, della nostra famiglia, noi siamo frutto della Pasqua, noi siamo i primogeniti della nuova creazione, noi siamo stati salvati per pura misericordia dall'Egitto, per questo siamo qui, chi non ha questa consapevolezza, chi non ha questa certezza dentro, chi non ha questa verità profonda su se stesso davanti agli occhi, il mio peccato mi poni sempre dinanzi, cioè non per giudicarti ma per dire guarda, guarda dove dovresti essere tu oggi, dove saresti tu oggi senza il mio amore, senza il mio perdono, come puoi giudicare, come puoi pensare all'altro, come uno stupido, come un pazzo, come puoi giudicare? Non puoi, non puoi, non è possibile, se giudichi, allora per te non c'è altro che, sì, la genna, che la tristezza è infinita, che è un giudizio molto profondo, molto vero, perché? Perché hai disprezzato il mio amore, è molto semplice, noi cantiamo, no? negli improperi, nel venerdì santo, dice, papolo mio, che male ti ho fatto, che cosa più avrei dovuto fare per te? Che cosa? Allora che oggi, diciamo, in questa quaresima, oggi, in questo venerdì, nel quale anche digiuniamo, nel quale facciamo il nome e moria in modo particolare della croce del Signore, Padre, ascoltiamo questa parola, non induriamo il cuore, Padre, perdona, perdona, Padre, mi hai perdonato, non sapevo quello che facevo, ieri, ieri, oggi farò tante stupidaggini e tu continuerai a perdonarmi, Allora oggi, chiediamo al Signore questa memoria, questa memoria della passione di Cristo, che significa la memoria dei miei peccati abbracciati, disintegrati dal sangue di Cristo, è già la Pasqua questa, è già il passaggio, questo abbiamo ascoltato, questo è il rito, dopo c'è l'agnello, Ma questo è il rito, il primo rito, la piaga che ha fatto uscire i figli di Israele, cioè, dietro di noi c'è, ci sono una serie di primogeniti che avevamo tutti nel cuore, i peccati, le menzogne, che il Signore ha perdonato e ha estirpato dal nostro cuore, Lui è venuto a mettersi d'accordo con me, con te e con me, oggi, oggi, vieni a mettersi d'accordo con te e con me, prima di morire, prima di dare la vita, ha detto, perdonala, perdonalo, come tu, come io, al lavoro, a casa, dove sia, non ci metteremo d'accordo, E' impossibile non dire, va bene, non ti preoccupare, ho capito, che non hai capito, ho capito che non volevi, ho capito, ti è ingannato il demonio, vero? Questo è un cristiano, la giustizia superiore a quella dei farisei, cioè qualcosa che va oltre, la giustizia superiore allo schema umano, superiore al dare e avere, La giustizia del nostro Signore Gesù Cristo che ci abbraccia, ci introduce in questa giornata, chi vive di questa giustizia ha questa giustizia nel cuore e la vive, E questo diventa un segno, diventa una luce per questa generazione, uomini salvati, uomini redenti, che sono usciti dall'Egitto e che vivono da liberi, da liberati, l'amore che li salva, l'amore che li rigenera ogni giorno. Grazie 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 Grazie